ciao a tutti e bentornati sul mio canale dopo questo avvio movimentato di questa musica cosino queste immagini vi presento questo filato mi sono preparato questa volta perché spesso mi chiedete cosa utilizzato qui abbiamo un 40 per cento di lana 40 acrilico 20 lurex e sono matassine da 50 grammi per un totale di 400 grammi per lotto questa azienda ai sei l'azienda turta vende anche privati ma in lotti per cui non potete prendere un gommicolo 2 prezzi sono ottimi e anche i filati è un acquisto che ho fatto l'anno scorso quindi non so se lo troverete ancora sul sito ma troverete tantissime altre cose preannuncio che questo è solo un hobby per me quindi non faccio riferimento a nessuna azienda scelgo i filati di volta in volta e vi li vado a descrivere perché me lo chiedete spesso ma senza appunto secondi fini per quanto riguarda questa piastrella che state vedendo la trovate in rete in 50 mila versioni qui la faremo insieme per un progetto futuro che riguarderà un gilet per donna poi naturalmente ognuno di voi può anche sfruttarla in diversi altri modi quindi detto ciò io vi aspetto e numerosi naturalmente e ciao a tutti